N.Y.Factory Nel video perchè voglio dirvi la mia Sulla decisione di Epic Games Di prolungare la stagione 2 Fino al 4 giugno Quindi restate fino a fine video E vi dico la mia di che cosa ne penso Di questa cosa Ma andiamo avanti ragazzi Perché ci sono tantissime novità Eccolo ragazzi Lo squalo finalmente è cambiato Però io non mi aspettavo Di questo cambiamento Devo essere sincero con voi Non mi aspettavo assolutamente Proprio zero di questo cambiamento E' praticamente diventato una prigione A tema spettri Adesso Io non so per quale motivo Epic Games abbia fatto questa scelta Di mettere lo squalo tema Non ne ho idea Onestamente Però E' abbastanza figo Devo essere sincero Mi piace Questo design bello Poi riprende quello che era A pudrito pantano Non so se vi ricordate La prigione Season 4 Mi piace Onestamente Mi piace Però ragazzi Eccolo qua Questo campo da basket Assomiglia un sacco A quello che c'era A pinnacoli pendenti Ovviamente è blu Però Più o meno è quello No? E mi piace tantissimo Ma la cosa più importante Che c'è in questa località E' questo ragazzi E' vaso Un Un prigioniero Adesso Io sinceramente Non so Quale è il prigioniero Possiamo immaginare Una skin Che potrà uscire Nei prossimi giorni Nello shop Non lo so ragazzi Non lo so davvero Non lo so E sinceramente Ho delle teorie O potrebbe essere Deadpool Però Ho pensato Che comunque Guardate il trailer Di quella tizia Che faceva Deadpool a rapporto Deadpool a rapporto Quindi Penso che non sia un prigioniero Sia un agente Tre virgolette Buono Che aiuta gli altri agenti E quelle cose Quindi ho escluso La possibilità Che fosse Deadpool Un'altra possibilità Era Mita Ragazzi Mita Mita Avete capito bene Io non so Sinceramente Se Mita Effettivamente Potrebbe essere lui Però Non escludiamo Estolutamente Le possibilità Perché Se ci fate caso Durante i trailer Le cose Non abbiamo visto Mita Effettivamente Fare qualcosa L'abbiamo visto Soltanto in game Con l'atomica andorata Che tra l'altro È tutta spammosa Però va bene E l'abbiamo visto Appunto con l'atomica andorata E Non lo so ragazzi Non lo so Devo Devo vedere Dobbiamo Volutare insieme Le possibilità Però Vediamo eh Perché può darsi Che anche La skin oro Quella di uscita Con le sfide Con le cose là Con il teschio No Quello scheletro Più che altro Ma ragazzi Questo Questo È tanta 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 roba Appunto dove Evaso il prigioniero C'è questa Questa lavagna Cioè In pratica Sarebbe un muro Con scritto sopra Con un pennarello In realtà Però va bene Allora Questo Che cosa potrebbe Rappresentare Allora Onestamente Non lo so Non ne ho Non ne ho Assolutamente Idea Però Ragazzi Se noi andiamo A guardare Bene il calendario Perché è effettivamente Un calendario Non c'è scritto Il mese Però Non lo so Allora In pratica C'è appunto Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Friday Friday Non lo so Non lo so Quindi Che sarebbe appunto Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì E giovedì E venerdì Appunto È il classico Calendario Inglese Dove ci sono Segnati Dei giorni Della settimana Cioè Delle date No Nella Nella nove Nel giorno nove Qua Quanto sembra C'è una torta Di compleanno Adesso Io comunque Se vado a prendere Il mio telefono cellulare E vado a vedere Il calendario Allora Vediamo che Comunque Allora La torta di compleanno Si trova esattamente A lunedì Quindi Monday Lunedì Giorno nove Di aprile È nove Giovedì Quindi Non è Questo Giorno nove Invece È sabato A maggio E a giugno Giorno nove È Martedì Quindi Io non lo so Sinceramente Che cosa Che cosa potrebbe Significare Questi giorni Non ne ho Completamente Idea Io ho cercato Appunto Ma non Non ho trovato Quasi niente Non lo so ragazzi Non ne ho Completamente Idea Non saprei dirvi Sinceramente Però Dopo Martedì Il giorno 24 Che di 24 Non corrisponde Neanche Perché è domenica Mentre Per giugno Il 24 Sarebbe Il mercoledì E per aprile Il 24 Sarebbe Venerdì Quindi Diciamo Che non Non ha molto senso Quindi Neanche questo Che poi ragazzi Quella dovrebbe essere Una pizza Io non ne sono sicuro Perché comunque Vedete le cose Di penna Che gli ha fatto Quindi Non lo so Però ragazzi Però 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 C'è un però Una cosa importante È quella Boom Il 31 Adesso Io non vorrei dire Però Magari Ci stanno trollando Quelli di Epic Games Ragazzi La season 2 Di Fortnite Doveva finire Il 30 Aprile Ok Il 30 Aprile Giustamente Il 30 Aprile Non c'è Il 31 Di aprile Ma se non Andiamo a maggio È il 31 Di maggio E capita Di domenica Ma Viene di Martedinborn In teoria Da questo Appunto Da questo Calendario Se noi Andiamo al 31 Giugno Non ha Non ha Un senso A parte Che neanche C'è Il 31 Cioè Non esiste Il giorno 31 A giugno Ragazzi Io non Non saprei Dirvi Onestamente Non Non capisco Questo Questo Calendario Magari Mi scrivete Nei commenti Che cosa Potrebbe Servire E che cosa Potrebbe Corrispondere Perché Comunque Non sono File di gioco Lo trovate Tutti In game Questo Qua è Tutta Tutta Roba In game Quindi Non Diciamo Che Non è una cosa Che ancora Nei file Di gioco Ragazzi Tra l'altro Tra il 25 Fino Al 29 30 C'è Questa Queste Liniette Che vanno Con una Fleccia Fino Poi Al 31 Che c'è Una X Enorme Quanto una Casa Adesso Tutti Questi giorni Non corrispondono Assolutamente Ai mesi Ai giorni Che ci sono Nella vita Diciamo Reale No Quindi Suppongo Che L'evento Non c'entra Anche perché Comunque Questo potrebbe Anche essere Una cosa Dell'evento Non è da escludere Ci sono tantissime teorie Però non è da escludere Non lo so Non lo so Scrivetemi la vostra Nei commenti Perché io davvero Non lo so Sono E onestamente Sono confuso Sono sincero con voi Sono abbastanza confuso Non capisco Che cosa servono Quelle robe La Non ne ho idea Però ragazzi Il problema Essenziale È che Tutti i numeri Sono evidenziati Quindi magari Se Che ne so Il numero 1 È evidenziato Mentre il resto Non erano evidenziati Già si poteva Supporre Che comunque Ogni giorno Magari il numero Poteva essere evidenziato Fino all'arrivo Il giorno 31 Che era L'evento finale Ok Perché diciamo Che Questo dovrebbe essere Il mese di aprile Ok Perché Cioè il mese Scusate di maggio Questo dovrebbe essere Il mese di maggio Perché ormai aprile Comunque sta terminando Non è di 31 aprile Ma di ma Ma maggio Sì Giugno La si sono poi Il 4 in teoria Quindi Non ci potrebbe essere Un evento Volendo Quindi Dovrebbe essere Tutto da vedersi A maggio Non lo so Non lo so Sinceramente Non Non ne ho idea Ragazzi È un calendario Forse fatto a caso Per Non ne ho idea Che cosa ha in mente Epic Games Speriamo in mente Cose buone Perché Onestamente Questo gioco Non Però Oh ragazzi Ci siamo Ci siamo Davvero Guardate qua Io vi lascio guardare Per qualche secondo Forse non lo notate Ok Eh sì Ragazzi Avete visto Chiaramente I bunker Finalmente Stanno Stanno diventando In un modo diverso Stanno rilasciando Della luce viola Allora Se noi andiamo Nella stanza di video Che adesso Non ho le foto Perché comunque Alcune foto Non sono riuscito Purtroppo a recuperarle Perché Io sinceramente Sul web Non le ho trovate I vari canali telegram Dovrei entrarci Però Insomma In definitiva Non Non ho cercato Benissimo Anche perché Non ho delle buone fonti Però Comunque Questo è quello Che ho trovato Per ora Allora Nella stanza di Mida In pratica C'è Diciamo Messo In una specie Di D'armadio Aperto Con dei vetri C'è appunto Una tuta Con dei tubi E' sempre tipo Una maschera Per respirare Invece no E' la maschera Di Uragano La skin Quella della season 9 Non so se vi ricordate Tutto tema Tempesta Adesso Se noi andiamo di nuovo qua Che poi comunque Sempre ragazzi Ripeto Queste cose le trovate In game Quindi non sono cose De file Sono tutte cose in game Che se voi ora andate Le trovate appunto Questa luce E' sembra appunto Viola Tempesta Maschera Tutte cose unite Hanno un filo logico Adesso però Questo filo si spezza Quando noi andiamo a pensare Però che Che cosa ci fa Una skin Così insignificante Come Uragano Perché non ha mai fatto parte Di una storia Verrà e proprio Uragano E' stata una semplice skin Dello shop Ok Che cosa potrebbe significare Cioè dalla season 9 Fino alla season Capitolo 2 Stagione 2 Di fortnite Andare a ricollegarsi Qui Non lo so ragazzi Non lo so Però le cose Sembrano effettivamente Uguali E' Quindi Non saprei Che dire Sinceramente Io Sarei alle conclusioni Che non c'entra Secondo me niente Sono molto simili Però magari Ecco Sono skin Completamente Differenti Non lo so ragazzi Comunque in qualche modo Sempre i bunker Si stanno attivando Sempre di più Questa cosa Mi piace L'unica cosa Che io spero ragazzi In questa In questo stagione 2 In quest'altro mese Di stagione 2 Perché praticamente Ormai Aprile è volato Altri 15 giorni E ciao ciao Però comunque Allora ragazzi Adesso parliamo Di roba seria Allora Che cosa ne penso Del 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 prolungamento Di questa stagione 2 Allora ragazzi Ecco Ora io scatenò Il putiferio Nei commenti Però non ci posso fare niente Sono mie idee Se siete contrari È giusto Però Ragazzi Devo dirlo Allora Secondo me Fortnite Stava andando bene Va bene Si c'erano giocatori Che si stavano sempre Di più allontanando Ma questo è già Nella stagione 1 Quindi Nel capitolo 2 Quindi non è una novità Diciamo così E Già c'erano troppi player Che si stavano allontanando Allora La scelta di Big Games È stata abbastanza Azzardata Ovviamente hanno detto Che La season è stata Prolungata Per Per il coronavirus In teoria Hanno detto così Poi Non so che Poi L'hanno detto Le persone Non l'hanno scritto Nel loro sito Cioè Nel loro sito Hanno scritto Che hanno soltanto Prolungato la season Quindi Non è per colpa Del coronavirus In teoria A quest'ora Non avevo No problemi In scriverlo Però Comunque Allora Secondo me Hanno sbagliato Perché Avevano già sbagliato Ai tempi Con la stagione 1 Che l'avevano Prolungata Di un sacco Veramente Di tantissimo E già li avevano sbagliato Però poi Fortunatamente Con l'inizio Di questa Della stagione 2 Si sono riprese Alla grande E Poi Diciamo Che stava andando bene La season C'erano giocatori Che erano sempre Più curiosi Della storia Delle cose Poi dopo quello che fu trovato Nella patch 12.30 Doomsday event Che appunto È il giorno del giudizio Hanno trovato Delle cose interessanti Scusatemi sempre Ma non ho Le foto Mi dovete perdonare Ma lo so ragazzi Dopo tutto questo Poi Epic Games Di nuovo Mi vale a prolungare Una season Io sinceramente Ci sono rimasto Molto deluso Io potevo capire Magari 15 maggio Che magari È metà maggio E ci può anche stare Però no Tutto il mese di maggio Più Altri 4 giorni di giugno Non lo so Non ho idea Anche perché Loro comunque Hanno confermato Nel loro sito Che Comunque Le sfide XP Tantissimi XP Non Non saranno Cioè ci saranno Saranno presenti Per appunto Migliorare gli eroi Cioè gli eroi Scusate Gli agenti Dorati Però Non lo so Ragazzi Hanno detto Che poi comunque Faranno sempre Aggiornamenti Ci mancherebbe Questo Sempre Epic Games Però Sinceramente Ci sono rimasto Abbastanza deluso Perché Io avevo letto Nel pass 30 aprile Ho detto Vabbè 30 aprile GG ci sta Non è come quella Season 1 Madonna Mi l'abbiamo Dieta tutti E Ragazzi Non so che dirvi Veramente Io comunque Sono abbastanza Deluso Devo essere sincero Preferivo 15-20 maggio Ma addirittura Prolungarmela Fino a giugno È brutta Allora Devo essere sincero Anzi non è stato Come la stagione 1 Che l'hanno prolungata Veramente Di tanto Di tanto Di tanto Però ragazzi Dopo lo sbaglio Che hanno fatto Per le feste Che diciamo E erano in ferie Cosi di Epic Games Giustamente Hanno detto Vabbè Prolunghiamola E vabbè Poi è uscita la stagione 2 E si è ripreso Tutto Ma adesso Epic Games Ok Hai fatto questo Grandissimo sbaglio Che ti è costato Veramente tantissimi soldi Perché comunque Molti giocatori L'hanno abbandonato Questo gioco Per colpa Di questo prolungamento Adesso Tu mi vai Riproporre la stessa cosa Dopo Quella roba Che è successa Cioè Stiamo scherzando Verro Io ragazzi Ci sono rimasto male Onestamente Io Lo sapevo Che la prolungavano In qualche modo Però Non fino Al 4 giugno Per questo Io vi dicevo Prima Per Per quella cosa Del calendario Maggio Non c'è Giugno Neanche lo consideriamo Aprile Già è passato Ma Quando lo devono fare Sto evento Io comunque penso Nelle fine di maggio Per forza Perché appunto Poi passano Magari 4 giorni E c'è di nuovo La season Io spero Soltanto Perché io comunque Non mi aspettate Allora Io penso Di far uscire Un Fortnite Funny Perché Quello della season 2 Ci vuole Però non penso Di far uscire Molti altri Fortnite Funny Onestamente In questa season Anche se È prolungata Di un mese Non ci posso Sare nulla raga Perché io Già Mi sto Quasi stufando A giocare Io penso Che giocherò Soltanto Per le sfide Per le robe Ma non penso Che giocherò Così liberamente Senza Senza sfido Senza altre robe Io ragazzi Sto preparando Delle clip Incredibili Di Apex Legends Che ho fatto Durante le live Su Twitch Anzi Andatemi sicuri Su Twitch Samuele Trattino basso K300 Non lo so raga Io sono veramente Deluso Speriamo che Dopo questa stagione 2 La mappa La cambiano Una bella zona Magari altre 2 3 zone Le cambiano bene E almeno così La gente Ha un po' di varietà Nel giocarci Perché altrimenti Veramente Perché appunto Con il fatto Della agenzia distrutta Magari In questa season Stessa Magari con qualche Aggiornamento Mettono delle zone distrutte Delle zone nuove Ricostruite Se mettono qualche cosa La mappa Qualche piccolo Cambiamento Già Comunque Un poco Ti fa incurcire No Già ti torna a giocare Però se non mettono niente Io penso ragazzi Che rip Questo gioco Perché Non si può fare Raga Tranne che Epic Games Sempre con il suo Da farsi Tutto Tutti studiati Tattici Appena finisce Stas season Poi la season 3 Tipo bellissima Super top Può darsi Non escludiamo Le possibilità Può darsi Sicuramente Però va bene Ragazzi Io vi ringrazio Per aver guardato il video Ovviamente mi sono dilungato Molto sulla parte Appunto del prolungamento Della season Però ragazzi Ci tenevo tantissimo A farvi sempre la mia Voi ovviamente Fatemi sapere la vostra Nei commenti Che cosa ne pensate Di questo prolungamento Se il gioco Ancora può andare Per almeno un altro anno Oppure Pensate che si Fermerà qui Se magari Può stare altri mesi E poi si fermerà Insomma Fatemi sapere la vostra Nei commenti Io ci tenevo A farvi sapere La mia E niente ragazzi Noi ci ribecchiamo A un Fortnite fan Oppure ad altri video E Seguite ovviamente Su Instagram Sam.ul K300 TikTok Samuk300 E Twitch Sam.l-k300 Ci vediamo Un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti